La Corte Malatestiana continua la sua programmazione. Venerdì 1 avremo il bel canto ritrovato e sabato 2 abbiamo un concerto davvero importantissimo perché è un concerto a cui teniamo è una nostra orchestra tutta speciale, l'orchestra mosaico. Vi invitiamo quindi a partecipare perché l'orchestra mosaico è formata da tanti componenti giovanissimi di diversa età ma tutti in età scolare. Suonano per diletto e per imparare e per approcciarsi alla musica. Dal punto di vista sociale è un elemento assolutamente importante del nostro comune e l'amministrazione vuole aiutare quest'orchestra attraverso questo concerto di autofinanziamento. Quindi vi invitiamo a partecipare tutti sabato, ci sono i biglietti, mi raccomando acquistateli, portate tutta la famiglia e godetevi un po' di musica da parte dell'orchestra mosaico. Grazie!